Grande successo di pubblico ieri sera alla Ghetto Living per il Martufello Show. Look semplice o meglio da burino come lui stesso ama definirsi, il comico animato e noto ristorante di Sperlonga con barzellette ed aneddoti pescati direttamente dal vissuto, facendo divertire così le tante persone accorse all'evento che oltre alle risate hanno gustato le prelibatezze del ristorante. Nato nella città di Sezze nel 1951 è proprio lì che il comico muove i primi passi nello spettacolo incarnando e proponendo sia nelle feste paesane che nei locali dell'area puntino una serie di personaggi che andavano dal contadino all'infermiere. Nei primi anni Ottanta l'incontro che gli cambierà la vita con il regista Pierfrancesco Pingitore. Si aprono così le porte del fortunatissimo show del Bagaglino dove lavora al fianco di mostri sacri dello spettacolo come Oreste Lionello e Pippo Franco. Nel 1995 scrive un libro di barzellette intitolato D.Q. Ninzò nel quale ripropone i suoi sketch televisivi e non basati essenzialmente sulla figura del burino come lui stesso lo definisce. Nello stesso anno è il protagonista del film satirico Chiavi in mano di Mariano Laurenti. Una lunga carriera fatta di tanti successi che ancora oggi proseguono tanto che il suo spettacolo è di scena in molti teatri italiani ed ora è approdato anche a Laghetto dove gli applausi sono stati molteplici.